...l'aria, perciò tutti indigeno, guardate sui paesi e asciugate a tutti, le mette in temperatura, perché allora vuole acquarare un calcio. Assolutamente, toglie completamente, umido, muffe, no, tempo, che è un banco, un'inizia, non ha manutenzione, non ha... ...questo è un scatolato, non è più intenso, e questo è la fibra di carbonio, perché questo è tutto il fibro di carbonio, collegato con l'elettricità, si scalda tutta e rimanda a questo infrarosso. ...anche lo specchio, fatto di dire, anche lo specchio. E cosa succede? Che praticamente, asciugando completamente il giro, c'è l'esplosione termica dal pavimento, a tutti i tuoi non sono i tuoi, i tuoi non sono i tuoi, i tuoi non sono i tuoi, i tuoi non sono i tuoi. ...l'appo del non si fare, no, per un spazio sono sempre i tuoi gradi di espressione termica, per un spazio di 16 gradi e su e 20. Perché io, il condizionatore, ad esempio, io mi siedo a guardare la televisione, il posto... ...quando mi alzo, c'è il cerchio, e in basso c'è il pepe di espressione... ...perché? Perché si perdono solo l'aria, non si perdono le altre cose. ...poi c'è la cosa... ...i consumi come sono le queste...